ok ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di delianel 2.0 oggi faremo la stessa cosa che abbiamo fatto nel primo video e sarebbe datemi un attimo ok sarebbe quello che ti provo è l'app del pit e questa volta l'app del pit scusate sono un pochettino infaticato hanno fatto le scala ma comunque stavo dicendo praticamente oggi faremo come il primo video proviamo un'app che riguarda il paranormale questa intoria rispetto a quella che abbiamo provato nel primo video dovrebbe funzionare ma non so se non partino ok dovrebbe partire pubblicità così che si attivi questo dunque l'app che stiamo per provare oggi è l'app del pit in teoria questa dovrebbe funzionare rispetto a tutte quelle che esiste in generale cioè questa è l'unica attendibile sarà vero ho potuto constatare che dai commenti sembra che il k2 funzioni dai commenti invece le parole pronunciate non funzionano ok l'app è pronta adesso comunque si sono in pigiama perché capite che ora vi faccio vedere sono mezzanotte quindi capite pure che sono anche abbastanza stanco quindi sto facendo questo video per caricarvelo penso domani o dopo domani non saprai ma sei chiusa stavo dicendo praticamente non so se lo caricherò domani o dopo domani questo video devo vedere comunque e niente mi informa anche con questo finito questo video per informarvi di una cosa cioè che praticamente torneranno le live su roblox ah no spero che non da tutto bene stavolta perché vi spiego vi aggiorno che adesso il mio vicino di casa ha cambiato router anzi forse ora è passato direttamente alla fibra infatti ho constatato da una velocità di upload rispetto a prima impressionante infatti l'upload che aveva prima è di 1 megabyte questa volta è di 20 mega quindi con un upload del genere dovrebbe in teoria funzionare bene ad rette cioè ho constatato che ho provato a fare caricamenti dei video di anche un'ora ed è molto molto più veloce quindi penso che anche nelle lab non dovrebbero esserci problemi probabilmente vi porterò anche le live con qualità alta anche comunque andiamo all'app adesso stacco e ovviamente riprendo l'app ok eccoci qua questa è l'app se sei bel pit e ho aperto l'emme 1 praticamente sì qua ci sarebbe quello del rem che dovrebbe dire le parole e quant'altro attiviamo se non si blocca ok già sta dando un picco poi si è abbassato si sembra che si mantenga alto qui eh sì ma diciamo che in generale è proprio così però forse penso che sia dovuto anche alla luce accesa o quant'altro facciamo una cosa spegniamo anche la luce vediamo potrebbe anche dare qualche miglioramento dovrebbe funzionare meglio vediamo tiene che mette a fuoco non sto vedendo il strumento poco senza la luce non mi metta a fuoco allora accendiamo la luce perché sennò è un problema ma chissà perché ok niente proviamo il rem in teoria questo dovrebbe pronunciare delle parole a caso quindi non lo so proviamo a fare come abbiamo fatto la scorsa volta alcune domande quello che vorrei fare anche e visto che mi sembra anche opportuno è staccare il wifi allora c'è qualcuno in questa stanza se c'è qualcuno in questa stanza per cortesemente può eh fare un rumore oppure pronunciare qualcosa vicino a questo strumento l'abbiamo attivato vediamo cosa accade allora già con basta una parola parola svegliare che dire non lo so se è mai collegato che devo andare a dormire non lo so cosa vuol dire con svegliare chi dovrei svegliare oppure devi svegliare qualcuno non so se è anche qualcuno svegliare deve andare al lavoro zia ok 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 e scusate se mi sono bloccato ma questa risposta mi lascia perpresso zia sei tu se sei tu puoi rispondere in questo strumento fornire ok la parola che mi ha detto zia però mi lascia perpresso perché mia zia è morta circa cinque anni fa ed è strano che proprio abbia pronostrato zia sarà una coincidenza frutto ok adesso sembra che mi si dica parole senza senso però zia è collegato a mia zia che non vuole mettere neanche fuoco ok ripeto zia sei tu puoi ripetermi se sei tu cioè rispondimi con un sì durare non sono non capisco cosa voglio dire frutto durare devo mangiare di più frutta non so non saprei zia sei tu voglio che mi rispondi con sì oppure no ok adesso non dice più nulla voglia si hai voglia di frutto cioè non capisco ora dice cose senza senso voglio sapere chissà e come ti chiami dimmi il tuo nome perché ok perché voglio sapere come ti chiami dimmi lo voglio sapere non puoi dirmi come ti chiami ok sembra che stia funzionando repubblica repubblica potrebbe anche essere un cognome ti chiami di cognome repubblica non risponde ripeto ti chiami di cognome repubblica non lo so forse sto dicendo qualcosa di sbagliato compagnia ok sembra che a volte dia delle risposte con una logica ma altre volte senza senso voglio sapere come ti chiami voglio sapere come ti chiami chi sei rispondimi dimmi il tuo nome abbandonare voglio sapere voglio sapere qual è il tuo nome dimmi come ti chiami almeno dimmi quanti anni hai specie specie non è umano allora scusate non sei umano ripeto non sei di questa terra abito abito abiti dove cioè vorrei capire questo non è umano ok se ottengo qualche altra risposta mi sa che ho trovato un titolo adatto a questo video abito là dove abiti risultare abiti sulla luna abiti su Marta su quale pianeta abiti vorrei capire cioè non abiti nel nostro sistema solare o abiti nell'altra casa accanto non lo so se non saprei cosa domandare più milione ok sembra che milione viene da pensare che milione potrebbe significare milione di galassie milione di galassie vuol dire abiti a milioni di galassie dalla terra o abiti a milioni di galassie della terra superare ok non lo so è complesso però non lo so se ci sta arrivando più a un piano milione superare superare che cosa la via Lattea superare che cosa milione di galassie non ha senso milione di pianete università ok ora è qualche atto università cioè non lo so la nostra cucina a dire è parola senza senso poco fa avevo messo mi pare che sopra questo mobile e lì ha pronunciato la proezia rimettiamo l'occo vediamo se cambia qualcosa zia sei qui vuoi che mi rispondi durante durante che cosa durante la guerra non so se vorrei capire durante che cosa rispondimi provocare non voglio provocarti voglio solamente sapere delle risposte non voglio provocarti voglio capire chi sei vorrei sapere come ti chiami quanti anni hai voglio sapere delle informazioni non voglio provocarti o poteva anche significare provocare guerra non so quadro aspetta fatemi riflettere allora zia provocare abito ma non sei un amico suo figlio aspetta un attimo gaspare sei tu no perché personaggio ora ragazzi vi faccio vedere una cosa non possiamo neanche dovrei poterlo fare questo che vedete qua appeso è il quadro non metto a fuoco della zia di mia zia ma è che letta o maria non vorrei che sia suo figlio io non ho mai conosciuto suo figlio quindi non lo so potrebbe anche essere rispondimi sei tu gaspare sei il figlio di zia marichetta giro rispondimi gaspare sei tu sei il figlio di zia marichetta o zia maria io non so io la chiamo la chiamo zia marichetta che non metta a fuoco meritare meritare che cosa rispondimi meritare che cosa sistema non mi merito la corrente scusa non capisco non ha senso con guerra e pubblica potrebbe sempre essere collegato a gaspare perché forse a quei temi si stava facendo la repubblica non so cioè ricostruendo tutto potrebbe essere mamma ho aspettato un altro ha detto no dai no raga ok io ho l'impressione che è gaspare cioè non sembra che mi stia tanto rispondendo diritto ok non lo zoom però comunque diritto c'è scritto ora non lo so cioè non so se essere confuso oppure no perché facendo una ricostruzione potrebbe essere veramente collegato suo figlio tutte queste risposte mondo ora questo non mi ricordo se il suo figlio è già del mondo non ne sono sicuro gaspare sei tu voglio che mi rispondi voglio che mi rispondi con questo strumento e proprio mi dici gaspare perché questo strumento riesce a rivela quello che dici se mi rispondi gaspare che sei proprio gaspare ho la conferma che sei tu o almeno dimmi come ti chiami dimmi il tuo cognome almeno abbastanza quindi forse basta significare che ha girato abbastanza il mondo per certe risposte sono non lo so non saprei che dire gaspare rispondimi sei tu dimmi che sei tu oppure dimmi il tuo cognome o no dimmi chi sei come ti chiami se ci fate caso non ha mai detto il suo nome di nuovo milione cosa sta a significare milione già è la seconda volta che pronuncia questa parola ok scusa ho sbagliato ho cliccato rispondimi voglio sapere chi sei come ti chiami ricerca io ragazzi io lo metto in altro posto però non so se funziona perché diciamo che di più quello che notavo strano era in questo punto di qua della casa poi non so polizia polizia ok come mai queste parole ora dire polizia a quei tempi non c'era tanta polizia quindi questa cosa è strana quindi non dovrebbe essere gaspare quindi o forse c'era gaspare ma è andato via chi sei dimmi come ti chiami sei il figlio di zia dimenticare aspetta potrebbe significare che la parola dimenticare significa che ha dimenticato come si chiama a volte per i fantasmi dimenticano queste cose non gli spiriti almeno sai dimmi quanti addirittura almeno sai dimmi quanti anni hai se non ti ricordi come ti chiami dimmi almeno quanti anni hai questo te lo ricordi oppure no rispondimi superiore superiore raga non so queste sono risposte che non hanno non hanno senso non mi danno neanche un nesso quelle parole soltanto quadro e figlio mi fanno collegare che era caspare atteggiamento atteggiamento non lo so sì altrimenti ho un atteggiamento sto tipo che ho una mano messa qua per pensare però non lo so aspetta o forse mi sta dando un indizio cioè non sa come si chiama non sa dimmi se si chiama caspare stazione se mi senti vorrei sapere una cosa sei il tizio del quadro che ho qua sopra qua davanti sei il tizio di questo quadro rispondimi la domanda più possibile è che se lui mi deve dare la risposta di sì in qualche modo cioè sei il tizio della persona di questo quadro che ho qua davanti ancora sì ancora voglio che mi rispondi sei questo tizio voglio avere la conferma che sei questo tizio oppure no rispondimi con un no e se se lui rispondimi con un sì mi aveva appena detto che hai detto montagna 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 io qui con quadri con montagna non ce n'ho quindi non ha senso questa risposta quindi presumibilmente questa app non funziona sapete non lo so all'inizio questa app mi stava convincendo che se funzionasse appena detto mamma zia anche ma poi ha detto anche quadro stavo collegando che fosse vero Gaspare però non è lui cominciare continua a pronunciare tipo economico continua a pronunciare tipo parole tipo più o meno sul governo anche ok ti concludo da qua non voglio fare penso che non ho fatto un mito sangue che mi da pensare sangue hai visto molto sangue? sei stato in guerra o sei morto in un incidente lui è morto in un incidente quindi dovrebbe ricordarselo forte forte hai avuto un brutto incidente con l'auto risponde hai avuto un brutto incidente con la macchina non mi da risposte concrete il problema è questo sociale io la concludo qui non lo so quando ho fatto ultimo video se ho fatto più di mezz'ora non vedrebbe una mezz'ora perché sembra che c'era qualche risposta concreta ma adesso completamente in teoria questo è lm1 però lm1 guardate aspetta non fa più e no piuttosto lm1 non è che fa più aspetta il mio è spento per questo non piaceva più però costringere però non dà tanto segnale in questo punto aspettate un attimo vediamo se ok qui dà più segnale o no ok proviamo in questo modo prima di concludere se c'è qualcuno in questo posto può avvicinarsi a questo strumento vuoi che fa lampeggiare questo strumento che ho appoggiato sopra il mobile sembra che c'è un segnale ma è debole però ripeto se c'è qualcuno in questa stanza vuoi che si avvicini a questo strumento che ho messo sopra il tavolo c'è sopra questo mobile qui mi fa la messa a fuoco scusate comunque no direi con gru dell'acqua direi direi secondo me quest'app forse veramente non funziona cioè l'M1 sembra che non stia funzionando infatti non rileva quasi nulla però deve stare fermo perché guardate se lo muovo guardate va al massimo direi che comunque possiamo concludere qui il video che dire se il video vi è piaciuto vi invito a Sean per mi piace non so questa serie non penso che la continueremo se avete qualche app da consigliarmi scrivetemelo sotto questo video e chissà ne proveremo qualche altro in qualche altro video non so se il video vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace noi ci vediamo alla prossima ciao